Passano i giorni, passano le settimane, ma la situazione è ancora piuttosto confusa. Lucia Azzolina e anche lo staff ministeriale continuano a rassicurare tutti sul fatto che il 14 settembre si riprenderà la scuola in presenza. In effetti, proprio tra oggi e domani, tutte le scuole d'Italia devono segnalare al Ministero le necessità in merito ai banchi monoposto da acquistare, perché secondo i piani del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico, con banchi adatti le aule potrebbero ospitare un numero maggiore di alunni. Ma l'idea non convince affatto i sindacati, che nel corso di una conferenza stampa svoltasi venerdì scorso hanno detto chiaramente che per il momento non ci sono le condizioni per riaprire le scuole regolarmente. I sindacati chiedono infatti un piano straordinario di assunzioni di docenti e ATA per poter ridurre il numero degli alunni per classe e per garantire una adeguata vigilanza e una più accurata pulizia dei locali. In realtà nel decreto rilancio, approvato proprio nei giorni scorsi dal Parlamento, ci sono anche le risorse per 50.000 assunzioni a tempo determinato per dare una risposta alle situazioni più difficili e alle obiezioni che lo stanziamento potrebbe non essere sufficiente, la Ministra Azzolina ha già risposto che sono in arrivo altri soldi, probabilmente con un nuovo decreto legge ad hoc. Ma i problemi sono complessi perché non c'è solo una questione di personale, bisogna trovare anche altri locali. La Vice Ministra Scani già nelle settimane passate aveva parlato della possibilità di fare lezione nei musei, nelle biblioteche, nei teatri. L'idea è stata rilanciata anche da Azzolina, ma francamente sembra piuttosto impraticabile. Troppe sarebbero infatti le difficoltà da superare. Chi dovrebbe occuparsi della pulizia di questi locali, per esempio? Come farebbero gli studenti ad arrivarci? Chi dovrebbe garantirne la sicurezza? Tutte domande che, per ora almeno, sono ancora senza una risposta. E poi c'è un altro problema legato alle nomine del personale. A tutt'oggi le graduatorie provinciali per le supplenze sono soltanto sulla carta, perché non si conosce ancora di preciso la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande, anche se si parla con insistenza del 24 luglio. Il rischio sarà quello solito. A inizio anno si dovrà fare riferimento alle vecchie graduatorie, in attesa di poter utilizzare le nuove. E poi c'è una questione di cui non si parla, ma che è molto reale. La ministra parla di avvio il 14 settembre, ma per la verità le scuole dovrebbero riaprire il primo, in modo da consentire lo svolgimento delle attività di recupero, ma non si capisce come e con quali docenti. Insomma, certezze poche, dubbi molti, confusione tantissima. Su questo tema noi ci troveremo di nuovo ancora nei prossimi giorni. L'appuntamento è per lunedì prossimo, poi successivamente la nostra rubrica si prenderà una pausa di riposo per il mese di agosto. Grazie a tutti.